Svegliarsi di notte e vedere nel proprio telefono, perché abbiamo le telecamere collegate nei negozi, vedere che ti stanno spaccando le vetrine, sicuramente è veramente un bel trauma. Ancora un colpo messo a segno nella notte alla gioielleria di Damiano Parati in via nazionale a Cortona, dopo solamente tre mesi dall'ultimo assalto subito, ingente il bottino supererebbe infatti 100.000 euro. Una banda di malviventi nella notte tra domenica e lunedì, dopo aver bloccato con fumogini e sacchi dei rifiuti via nazionale, è infatti entrata all'interno del negozio con piede di porco e mazze. In una manciata di minuti ha fatto razzia di preziosi e si è data alla fuga. Cinque persone sono state immortalate dalle telecamere interne. Abbiamo visto questi malviventi che erano completamente vestiti di nero, avevano delle luci in testa che quindi si vedeva questo piccolo faretto all'interno del negozio e in una telecamera di queste dove si diva meglio si vedeva che stava proprio spaccando la vetrina. Anche a giugno il colpo venne messo a segno con modalità del tutto simili. Precisamente il colpo è stato fatto nel solito modo. Avevamo messo degli impianti e stavamo terminando ancora altre tecniche per stava guadagnarci ma non ce l'abbiamo fatta. Ovviamente adesso esplode la rabbia dei proprietari. Ci piacerebbe avere quella serenità, invece devi sempre lottare contro questi mostri che poi quando arrivano in due minuti ti sfasciano. Magari ci fossero più forse dell'ordine o sistemi, telecamere all'interno dei corsi di questi centri storici come comunque in qualsiasi altra periferia sicuramente saremo anche un pochino più salvaguardati.